Ben ritrovati di nuovo insieme con la rubrica dei due minuti di Vangelo. Oggi leggiamo i versetti 20-35 del terzo capitolo di San Marco. Tale brano è formulato per incastonare un episodio dentro un altro episodio. Nel brano di contorno c'è il rapporto tra Gesù e i suoi familiari che si mettono alla ricerca di lui per riportarlo, potremmo dire così, nei ranghi. Essi erano preoccupati del fatto che lui si stesse inimicando gli scrivi, risultando scomodo a causa del crescente consenso che riceveva, invece dalla folla. All'inizio della pericope ci viene detto che i suoi uscirono a cercarlo. Alla fine, invece, si dice che essi stavano alla porta in attesa che lui uscisse. Si trattava di Maria e dei suoi cugini, quelli che erano cresciuti in casa con lui e che in ebraico, come in altre lingue, vengono chiamati affettuosamente fratelli. È a quel punto che Gesù usa parole molto forti, dicendo che non sono importanti le relazioni di sangue, ma perché uno possa considerarsi parente di Gesù è necessario che viva accogliendo la volontà di Dio. È un riprovero secco nei confronti di coloro che volevano riportarlo a casa in quanto ritenuto impazzito. E noi ci scandalizziamo mai di Gesù ritenendo che chieda troppo? Il brano inserito in questo episodio è invece quello della bestemmia contro lo Spirito Santo. Dal testo e dal contesto si può intuire che questo peccato, che è l'unico a non poter essere perdonato, consiste nel ritenere che Gesù non sia il Salvatore. È contro lo Spirito, perché uccide il nostro Spirito, lo atrofizza. Gesù è pronto a perdonare ogni cosa, anche il delitto più efferato. Pure tutte le bestemmie che sono propriamente l'uso del nome di Dio per fare del male. Ma chi arriva a pensare che Gesù non è in grado di salvare, o non è il Salvatore, o ancora, chi arriva a presumere che non c'è bisogno di Gesù per salvarsi, potendolo fare da soli, grazie ai propri sforzi ascetici, insomma, chi arriva a credere che non c'è necessità di Gesù in ordine alla salvezza, che possiamo anche fare a meno di Lui, costui si mette in una condizione tale che nessuno potrà farlo rinsavire e dunque sarà condannato all'eterna infelicità. Per evitare di cadere in questo peccato dobbiamo attaccarci a Gesù e crescere nell'amore per Lui. E così anche oggi siamo arrivati alla fine del commento. Fammi sapere scrivendo che cosa pensi e di quanto detto e non dimenticarti di mettere un like a questo video e di iscriverti al mio canale YouTube se ancora non l'hai fatto. E mentre ti ringrazio ti do appuntamento alla prossima volta. A presto!